sta per andare in onda pianeta oggi eventi nel mondo trasmissione condotta da massimo bonella e alviano appi gentili ascoltatori di radiosario se tv buonasera benvenuti a pianeta oggi eventi nel mondo il nostro approfondimento giornalistico settimanale che viene da ogni martedì sera a quest'ora oggi sono partiti con un leggero ritardo dovuto a un problema tecnico improvviso comunque tutto risolto qui in studio massimo bonella collegati a pordenone via skype abbiamo alviano appi dell'associazione culturale il sicomoro con un ospite importante che dopo vi presenterà saluto alla regia ehm la regia che questa sera vedo di turno abbiamo Ugo Moreno e dunque partiamo subito con la notizia più breve siamo più brevi del solito anche perché appunto eh siamo partiti in ritardo e dobbiamo anche chiudere un po' prima perché dovremmo seguire un importante convegno eh che si terrà a Caneba in provincia di Pordenone con per la presentazione del libro di Aaron Pettinari eh quel terribile 92 ma dopo ne parliamo intanto una notizia eh che emerge subito in primo piano il caso Cucchi al processo per la morte di Stefano Cucchi che vede imputati cinque carabinieri il maresciallo Riccardo Casamassima ribadisce le sue accuse ai colleghi dunque il maresciallo Mandolini mi confidò che c'era stato un casino perché un giovane era stato massacrato di bot dai ragazzi eh dice il test e spiega che quando si riferì ai ragazzi l'idea era che erano stati i militari che avevano proceduto all'arresto poi racconta di un altro collega che gli disse di aver visto Cucchi ridotto male a causa del pestaggio subito disse che mai aveva visto una persona combinata così e che stavano cercando di scaricare sulla polizia penitenziaria la responsabilità dunque vedremo poi come andrà il il tutta una notizia ovviamente come si suol dire in eh corso eh adesso diamo uno sguardo rapidamente alla nostra testata appena oggi tv.net in collaborazione con Radio Science TV eh emittente che ricordo Radio Science.it emittente radiofonica e televisiva online di Treviso diretta da Rosario Moreno allora a taglio primissimo abbiamo governo Di Maio Salvini no mafia eh di Giorgio Bongiovanni direttore di antimafia duemila poi eh un altro articolo Peppino hai vinto di Sonia Bongiovanni Poi ancora a taglio eh primo medio diciamo così in primo piano lo sfruttamento minorile un crimine contro l'umanità poi ancora un'altra notizia che è stata anche questa in primo piano di giorni scorsi dal titolo eh un altro articolo dal titolo i bambini schiavi così l'uomo ha ucciso Dio pensate cosa succede su questo pianeta si va a schiavizzare anche i bambini sono cose che hanno dell'incredibile poi l'edizione di eh eh Spazio 7 eh a cura di Radio Science TV eh diretta ehm letta in studio da Rosario Moreno rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa poi il nostro settimanale pianeta oggi reporter notturni di notte parole intervista al pianista Gabriele Civello al termine intervista ad Enrico Giorgiutti del Cenacolo di Mestre Venezia in collaborazione con RST Radio Science TV poi c'è ancora eh diciamo il flash eh che avevamo messo la settimana scorsa della morte di un grande eh Paolo Ferrari veramente un grande maestro teatrale della radio televisione italiana poi l'altro settimanale speciale premio Purnola con il collega Gianluca Mancuso e quindi un altro articolo eh di Antimafia 2000 molto importante la quiete dopo la sentenza eh di Saverio Lodato dunque diciannove tredici vi ricordo eh prima di dare la linea ad Alviano che questa sera alle venti quarantacinque presso la sala convegni del contenitore culturale multifunzionale officina Villa Frova in piazza San Marco a Caneva siamo in provincia di Pordenone si terrà la presentazione del libro quel terribile novantadue del giornalista e scrittore Aaron Pettinari allora modera i lavori il direttore di Antimafia 2000 Giorgio Bongiovanni e inoltre è prevista l'esibizione del gruppo del movimento culturale internazionale Our Voice quindi questa sera appuntamento alle 20.45 in piazza San Marco a Caneva in provincia di Pordenone ci saremo anche noi di Pianeta Oggi TV Radio Science TV infatti a tale proposito io adesso cedo subito la linea dal piano appi eh dal piano appi di associazione culturale il sicomoro per la discussione del programma io vi saluto non ci saremo non ci sentiremo alla fine perché devo nel tempo di fare la strada devo recarmi eh a Caneva per le interviste allora Alviano condurrà il programma e poi lo porterà anche al termine saluto dunque la regia eh di turno Ugo Moreno buona diretta a voi gentili ascoltatori rimanete sintonizzati perché sta appena iniziare una trasmissione di approfondimento molto molto interessante a te Alviano buonasera a tutti grazie Massimo eh buonasera a tutti i nostri radioascoltatori eh siamo nel mese di maggio e per vocazione dell'associazione il sicomoro di cui faccio parte eh fa parte anche Massimo non potevamo fare una trasmissione non poteva mancare diciamo una trasmissione sull'essere spirituale a cui questo mese viene abbinato e cioè la Madonna questo è il mese di maggio è il mese eh mariano e questa sera parleremo della figura della Vergine della sua presenza nella storia dell'umanità e lo facciamo con eh Flavio Ciucani che è un profondo conoscitore delle apparizioni mariane eh su questo tema ha partecipato a trasmissioni televisive radiofoniche ha fatto conferenze eh seminari eh stato anche autore di un libro il segreto negli occhi di Maria e quindi eh intanto io ti ringrazio eh Flavio per concederci il tuo tempo eh benvenuto a questa premissione eh grazie a voi grazie a tutti i coloro che ci stanno ascoltando allora Flavio eh eh ascolta io innanzitutto vorrei toccare un punto importante come premessa questa eh indagine eh sulla presenza della Vergine eh eh con l'umanità eh su questo mondo i suoi segni le sue apparizioni i suoi messaggi ma eh e la premessa è questa eh si tratta di un argomento di fede di credo oppure c'ha qualche cosa di più questa presenza spirituale è soltanto una presenza di 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 fede io credo in una dimensione superiore o la possiamo riportare a qualche cosa di più oggettivo beh la tua domanda carissimo Alviano eh legittima da un lato bellissima dall'altro e anche un po' provocatoria perché significherebbe questa sera mi vorresti far passare per diciamo per eretico perché perché in qualche maniera io ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo in qualche maniera nel libro che tu hai citato che ho scritto se vedo gli occhi di Maria faccio una diciamo una un scursus dalle dalla morte di Gesù fino al al 1500 eh in cui eh cerco di dimostrare come la Madonna sia stata sempre presente questa figura sia stata sempre sempre presente nella storia dell'umanità se eh l'altra sera parlando dello stesso argomento con con un altro gruppo un gruppo di persone eh volevo far notare una cosa voi sapete che ad Efeso eh c'è stato un un concilio in cui si è eh come si dice si è discusso sulla natura della 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 madre di Gesù e in questo e in questo concilio ad Efeso eh sono stati praticamente è stato dichiarato che Maria non è soltanto la madre di Gesù ma è anche la madre di Dio in quanto lei ha messo al mondo un essere eh la cui essenza spirituale era divina e sempre ad Efeso c'era il più grande eh tempio dedicato alle eh alla dea Artemide la dea Artemide era praticamente diciamo il nome greco di colei che da sempre era ritenuta la madre la madre di tutti gli dei era una rappresentazione di una di una di una donna che che aveva tante poppe perché era colei che sfamava gli uomini e dava la vita agli uomini e agli dèi la dea Artemide era il santuario più importante della del bacino del Mediterraneo eh praticamente ad l'Artemide eh io ho trovato per esempio nel museo in un museo ehm della Sardegna un gadget che si trova che si vendeva ad Artemide che si vendeva ad Efeso perché chiunque andava ad Efeso come oggi si va a un santuario e ci si porta a porta a casa un un ricordino una una coroncina un una immagine eccetera e lì si vendevano delle delle immagini in pietra di Artemide e si vendevano anche delle immagini del tempio in oro in argento e questo lo trovate anche sugli atti degli apostoli e e quindi c'era nella stessa città dove è stata proclamata Maria madre di Dio è stata proclamata madre di Dio c'era un tempio ehm alla madre degli uomini e degli dei ma c'è un altro fatto che secondo me non è casuale quando quando ehm quando Giovanni il apostolo Giovanni è andato ad Efeso per motivi di predicazione eh si è portato dietro la Madonna si è portato dietro la Maria madre di Gesù in quanto era stata affidata a lui da Gesù stesso vi ricordate no? Sciotto la croce esatto e e hanno preso casa che ancora oggi esiste questa casa hanno preso casa si chiama la casa di di Maria ma è la casa di Giovanni praticamente hanno preso casa proprio ai bordi diciamo poco lontano dalla città eh dal centro della città ai bordi di un bosco dove la tradizione vuole che questa che Maria andasse a passeggiare insieme alle donne che la accudivano già lei era abbastanza anziana e questo bosco era dedicato alla madre di tutti gli dei ora voi vedete che esistono delle coincidenze che coincidenze non sono che fanno pensare che tutto sommato questa figura femminile è intrisa nella nella storia dell'umanità perché è colei che eh mantiene viva la spiritualità degli uomini con la natura con l'universo e con il mondo stesso è tutt'uno cioè praticamente la tradizione antica e la tradizione moderna si uniscono in una sola figura che è la madre di Gesù eh sì non so se dovevi dire ancora qualcosa no no volevo dirti questo per dirti che praticamente si potrebbe andare all'infinito senza anche indietro ehm faccio un esempio ti faccio un esempio e poi smetto ehm ehm sempre indottia esiste un tempio dedicato alla madre terra ora questo tempio se uno lo vede sono delle bellissime foto su internet praticamente sulla roccia su una parete rocciosa è scolpito il tempio scolpito la facciata del tempio con tanto di colonne con tanto di transetti c'è tutto scolpito viene scolpito c'è anche la porta ma la porta è scolpita non si entra come per dire che il tempio della madre natura è la terra stessa che il tempio della madre degli uomini è la terra stessa e quindi dice e questa è la figura femminile diventa la figura che è l'anima della terra stessa ecco e quello che che alcune persone potrebbero dire io adesso non so esattamente quante magari ce lo potrai dire tu le apparizioni della vergine sono state comunque estremamente eh numerose ma i i detrattori dicono ma sì ma le persone si inventano le cose ma allucinazioni stati psicologici particolari eh non c'è niente che possa essere ricondotto ad un'oggettività ad un qualche cosa di eh è proprio così è proprio così beh guarda alviano qui interviene per forza interviene la fede però anche anche una persona che crede deve in qualche maniera eh constatare una cosa che è importantissima e lo ha dimostrato quello che sto per dire lo ha dimostrato Fatima ed è questa la Chiesa Cattolica ha sempre detto che praticamente il messaggio eh di Cristo eh finisce dopo la morte degli ultimi apostoli cioè dire non non ci sono altri messaggi da dare ora se questo fosse vero se questo fosse vero dovremmo cancellare duemila anni di storia di apparizioni mariane e non solo mariane perché è apparso anche Cristo sono apparsi anche i santi i quali continuano a dare non non una nuova non un nuovo messaggio non è che eh il Vangelo si apre eh in i nuovi messaggi delle apparizioni mariane il messaggio è lo stesso soltanto purtroppo siamo ad una situazione tale che la Madonna ha bisogno necessariamente ha bisogno di eh come dire di dire agli uomini il messaggio è stato dato voi non lo mettete in pratica questo è importante capirlo perché quando si va a vedere le le apparizioni mariane nel suo complesso dobbiamo anche capirle nella lettura se noi se noi oggi andiamo a rileggere quello che è stato eh quello che sono state le diciamo i messaggi avuti eh negli ultimi temi non andiamo tanti là rimaniamo alle alle segreto di Fatima è stato importantissimo è stato un momento importante perché perché nel segreto di Fatima si è previsto quello che sta succedendo adesso che il segreto di Fatima praticamente eh dà il senso eh preciso di quello che in questo momento sta succedendo nel mondo non è una cosa in più è una cosa per dire per ricordare agli uomini che ehm c'è stato un messaggio che c'è stata una predicazione in questa predicazione sono dati degli indirizzi e l'umanità e si è detto fate questo perché così cambierete il mondo e quando ad un certo momento io ritornerò e e e organizzerò una una nuova terra e un nuovo cielo e questo quello che sta dicendo la Madonna e quello che sta dicendo lo ha detto sempre in tutte in tutte le epoche cercandoci cercando di farci ricordare ciò che sta avvenendo quindi questo è il significato vero della delle apparizioni di Fatima non vedo altra altre soluzioni cioè nel senso eh non so come spiegarmi Aldiano cioè no no ma eh sì eh eh a parte nel libro che tu hai scritto il segreto negli occhi eh della Vergine accadono vengono narrate delle cose che lasciano veramente stupiti a tutt'oggi eh quel quel mantello di questa ragazzina che è la Madonna del Guadalupe mostra contiene eh cose che la scienza la scienza stessa in qualche modo rimane eh stupita e anche eh e anche sono legati tu parlavi un momento fa del di Fatima eh a Fatima sono legati dei prodigi ma ci sono state molte apparizioni in cui in cui è difficile dire ehm che poi ha una modalità particolare la Madonna sceglie soprattutto ragazzini gente innocente gente gente a Lourdes sceglie una ragazzina e gli fa dire cose che è difficile che queste persone si possano inventare quindi c'è eh sicuramente un 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 grande interrogativo che anche i non credenti non solo chi crede anche chi non crede dovrebbe dire ma qui c'è una dimensione eh superiore che in qualche modo sta facendo qualche cosa perché noi non è che ci capiamo tanto giusto? Sì guarda io è giusto quello che dici perché effettivamente quando noi pensiamo alla Madonna alle apparizioni mariane le pensiamo in una maniera forse troppo bigotta noi dovremo invece pensare ad una situazione normale logica in cui l'uomo o perlomeno il credente lasciamo perdere gli altri ma il credente il quale credere di avere un eh corpo fisico e dentro a questo corpo fisico invece c'è un corpo spirituale quindi ci sono due piani di intelligenza due piani di raziocinio ed è logico che se il raziocinio prevalente è quello materiale eh qualcuno dovrà per parlarci dovrà esporre la propria eh la diciamo il proprio indirizzo a livello materiale se invece noi fossimo capaci di eh di parlare anche con il nostro spirito è chiaro che vedremo cose che fisicamente non riusciremo a vedere eh e di conseguenza c'è questa volontà da parte dell'altro mondo del mondo spirituale del mondo a cui apparteniamo effettivamente perché dopo cinquanta sessanta cento anni il nostro corpo muore e quello che rimane non rimane sulla terra va in un in un'altra situazione non è un altro mondo è un'altra situazione che noi non abbiamo potuto eh vedere perché eravamo ehm dentro ma ora volevo soltanto ehm soltanto farvi notare farvi notare come ehm il messaggio mariano non è un messaggio ehm che va semplicemente a coloro che ehm che si impongono di pregare fanno sacrifici eh pregano 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 per il bene dell'umanità eccetera a parte che la preghiera a duemila anni che preghiamo non è risolto niente però la preghiera è importante io sono sicuro che la preghiera è una delle delle cose più importanti che esista nella spiritualità però oltre alla preghiera bisogna anche capire quello che dobbiamo fare è chiaro e quindi e quindi anche nelle situazioni normali dobbiamo capire che cos'è il messaggio il messaggio quando eh a Fatima ehm secondo secondo il ehm come si chiama il ehm il testo diplomatico vi ricordate che c'è un testo diplomatico che è andato in giro eh fino al duemila no fino al duemila c'era il testo diplomatico e il testo diplomatico si diceva lo avevo già detto ai bambini Melania e Massimino Lasalette quindi è una cosa che io ripeto dice dice l'apparizione e dice ancora in nessuna parte del mondo vi è ordine e Satana regna sui più alti posti determinando l'andamento delle cose che significa questo se un attimo ci pensiamo a quello che sta succedendo oggi facciamo un semplice ragionamento da diciamo da oste no i quattro soldi cinque soldi allora se Satana abbiamo sempre detto che il principe della menzogna giusto? certo essendo principe della menzogna non può dire la verità allora noi diciamo ci è stato detto che Satana regnerà nei più alti posti che significa in termini pratici che li occuperanno gli alti posti dell'economia gli alti posti della politica della scienza gli alti posti dei mezzi di comunicazione allora noi che ci affidiamo a coloro che ci dicono guarda domani adesso faremo questa legge per faremo questa legge per se è Satana che sta lì significa che sta dicendo una bugia non possono dire la verità e come possono dire la verità questi se sono diciamo sono determinati dalla volontà da una volontà maligna e menzognera e questo è chiaro lo vediamo in questi giorni vediamo Trump che non so per quale cioè lo posso induire per quale diciamo meccanismo abbia voluto mettere l'ambasciata a Gerusalemme fatto sì è che lui ha bisogno che di non apparire che è lui che fa la guerra che provocare la guerra ma deve essere un'altra persona che provoca la guerra e beh questo questo signor Medaniao si è permesso di dire che l'Iran non è democratica perché non rispetta le regole ma lo Stato di Israele non l'ha mai rispettate le regole ci sono state decine di eh decisioni dell'ONU e e in barba a queste decisioni Israele ha fatto sempre come si pare quindi dove sta la menzogna dove sta dove sta la democrazia dove sta la verità voi vedete che gli uomini tra di loro cercano di ingannarsi a vicenda a vicenda e ingannano anche noi ci stanno ingannando pensate all'economia no noi facciamo l'opolo ogni tanto a fare in televisione ogni anno questa storia della della di dare i soldi per contro il cancro non è stato mai ribellato il cancro anzi peggio no certo dice che dobbiamo fare la pace e si fa la guerra dice che dobbiamo dare i soldi per sfamare il mondo e ci stanno più affamati nel mondo allora la finalità non è la pace la finalità non è la 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 fine delle diciamo della delle delle tribolazioni la finalità è distruggere l'umanità completamente distruggerla e renderla schiava dell'inganno soltanto questo quindi questo sta a significare come le apparizioni sono legate necessariamente all'evoluzione umana sono legate a quello che sta succedendo sono legate alla a quello che gli uomini stanno commettendo e non riescono a capire che quello che stanno facendo è contro la la volontà del dei messaggi evangelici diciamo sempre che cristo il nostro messi è il nostro maestro ma se ma se maestro era avrà dato qualche qualche insegnamento e quali insegnamenti stiamo mettendo in pratica ecco allora il significato delle apparizioni maniera e allora non abbiamo tantissimo tempo ma c'è un punto molto importante con il quale magari vorrei concludere con te flavio che è questo partendo sempre dalle apparizioni di fatima la madonna dice ai bambini ai tre pastorelli venite qui ogni giorno 13 del mese per sei volte essi andranno dal 13 di maggio fino al 13 di ottobre e poi dice venite e poi io appari ritornerò una settima volta ecco io penso che anche a questa settima volta siano legati importanti messaggi ma di questa settima volta pochi sanno di che cosa si tratta vorrei che tu svolgessi un poco questo tema beh io ho seguito le apparizioni mariane diciamo un po quasi tutte quelle che ho potuto studiare ne ho studiate tante eccetera però una di quelle che oggi fa parte delle diciamo del del sacco pieno di eresie perché ognuno che dice qualcosa che va poco poco contro alle tradizioni della chiesa cattolica eresia ci dobbiamo ricordare delle quante eresie la chiesa cattolica ha condannato che poi oggi invece le rimette sul piatto della pere a parte questo io ho seguito dall'inizio diciamo la storia di giorgio con giovanni sono giorgio con giovanni il quale la madonna gli apparsa nel mio paese gli ha detto di andare a fatima perché io avrebbe dato io avrebbe lì sarebbe successo una cosa importante lui è andato e nell'apparizione mariana gli ha nell'apparizione che ha avuto nella piazza sotto la stessa quercia dove era apparsa nel 1917 e gli ha dato gli ha dato una una missione questa missione era proprio questa era quella di divulgare il messaggio di fatima e quella di smascherare l'anticristo è quello che giorgio con giovanni ha cominciato a fare e continua a fare impegnato appunto nello smascherare una delle facce dell'anticristo che è quella dei mafiosi e diciamo a diciamo ancora in questa missione a proclamare il ritorno di cristo questa è la missione che lui sta facendo e guarda caso e guarda caso è stato proprio il a settembre che è avvenuta questa apparizione il due di settembre quindi io credo io credo fermamente che che questa sia stata la settima apparizione e questo sia stato il momento di un momento per chiudere il cerchio di queste di questi messaggi in quanto proprio nei messaggi di giorgio con giovanni ritroviamo quello spirito di di leggere di leggere gli avvenimenti dell'umanità leggere gli avvenimenti della politica dell'economia di leggerlo con la finalità del messaggio di fatima e in questo senso io credo che sia proprio eh sia proprio la la settima apparizione in questo senso ecco eh sì e guarda scusate siamo in chiusura ma il messaggio che il messaggio di giorgio che noi invitiamo tutti a ad approfondire nel suo sito www.giorgio.it e si può vedere come il messaggio di giorgio sia intriso dei valori cristici e la madonna in tutte le sue apparizioni in moltissime sue apparizioni diciamo invita a seguire il suo figlio certo non c'è stato mai un momento in cui c'è una separazione tra eh il messaggio ehm il messaggio mariano e il messaggio di giorgio con giovanni che che se ne dica che che mi abbiano detto i detrattori ma il messaggio eh come si dice il messaggio che giorgio dà è un messaggio sicuramente ehm dettato dettato dalla eh dalla volontà della madonna di eh di come si dice di di eh di annunciare la fine dei tempi se gli è stato dato di dire che Gesù sta tornando significa che questa è la fine dei tempi e di conseguenza io credo che ehm che appunto non si sia stata mai un momento ehm un momento di separazione tra il messaggio di giorgio con giovanni e il messaggio della madonna per cui io credo che sia importante eh che eh importante diciamo approfondire appunto i messaggi che giorgio dà sul suo sito e che in questo momento sarebbe difficile leggerne io ce l'ho sotto mano ma eh ci prenderebbe un sacco di tempo ma anche perché nel suo sito si trovano tantissimi segni e messaggi dati dalla madonna nel tempo giorgio eh ogni volta che eh riceve qualche cosa in questo senso è il primo a dare importanza a quanto la madre con le sue sanguinazioni con le sue lacrimazioni con le sue cose va dicendo a questa umanità sì eh ecco anche perché lui è stato ultimamente lo lo sapete che è stato eh ehm nel nel monastero dove dove Lucia ha vissuto e ha avuto dalla superiore di questo monastero la certezza che il terzo segreto di Fatima quello ehm promulgato il tredici ma quello promulgato nel duemila da da Solano non è completo e la madre superiore che era l'amica di Lucia ha detto che non che non è che non è completo quello che la Chiesa ha eh diciamo ha divulgato c'è una parte importante che è quella in cui si vede l'angelo questo angelo che viene fermato dalla Madonna sopra la croce fatta di un legno marcio dove il vescovo vestito di Bianco viene ucciso viene ucciso questo vescovo vestito sull'apparizione nel messaggio di Lucia continuava dicendo che l'angelo avrebbe toccato il polo della terra e sarebbe stato uno sconvolgimento globale e questo non è stato detto e non è stato tramandato invece sul testo c'è un'altra cosa bene, allora Flavio noi invitiamo le persone quindi ad approfondire il tema siamo in chiusura noi ti ringraziamo vogliamo leggere la finale di quello che ha scritto il 13 maggio proprio nelle ultime due frasi diceva Giorgio l'anticristo ha paura ed inizia a tremare di fronte all'ingalzare della verità cioè che si cominciano a sapere tutte queste cose inizia così il rapido e inesorabile cammino che ci porterà al trionfo del cuore immacolato della madre santissima questa era l'ultima frase di questo messaggio che potete leggere appunto sul sito di Giorgio Bongiovanni bene, io ti ringrazio della partecipazione delle informazioni che ci hai dato della sensibilità con la quale tratti questi temi ringraziamo i nostri ascoltatori e passiamo la linea alla regia di Ugo Moreno per Radio Science buonasera a voi arrivederci e a risentirci grazie avete ascoltato Pianeta Oggi eventi nel mondo trasmissione condotta da Massimo Bonella e Ariano Appi vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione